Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! Ha risolto giallo! Se faccio così... E basta! Cosa mi viene in mente? Quanto te ne metti? Cosa mi viene in mente se faccio così? Adesso voi dovreste aver già capito chi è l'ospite di questa sera Un'autrice che ritorna, la buona Raffaella Bossi Buongiorno! Buongiorno cari! Dell'accoglienza profumata L'accoglienza profumata, adesso batto cassa Ti ho rovinato Mi ha rovinato la vita questa donna Io devo dire assolutamente una cosa Perché l'incontro con Raffaella Mi ha portato a... Lei se lo sa perché ne è testimone A informarmi sul mondo dei profumi Specialmente nella creazione del profumo E io purtroppo Mi duole dirlo Io questa esperienza non l'ho ancora fatta Ma l'ho regalata Per i trent'anni Per una mia carissima amica Che bello! Quindi io Cioè sono rimasto veramente tanto colpito Dal mondo del profumo E da come anche poi Lo racconti E quindi adesso Ma la tua amica è piaciuta? Non l'ho ancora fatto Però Io ho aspettative molto molto alte Perché io comunque Questa esperienza la farò Indipendentemente da... Che merita? Eh! Era bellissima esperienza Tu l'hai fatta Sì a Grass Da Gallimard Una delle profumerie più antiche del mondo La terza E fai un giorno da Metro Profume Stai seduto davanti all'organo Dove ci sono tutte le essenze C'è tutta una giornata E puoi fare la scelta C'è mezza giornata E tutta una giornata Io ovviamente ho dovuto documentarmi Ho fatto tutta la giornata È stato magnifico Perché poi hai tutte le tue essenze Puoi scegliere È una cosa difficilissima Eh sì Perché c'è una goccia in più Una goccia in meno Cambia completamente Alla fine tu ti crei il tuo profumo Che non è niente di memorabile Perché non è così semplice Però poi dopo ti puoi fare Il tuo profumo personalizzato Che non è una cosa semplice Che non è una cosa semplice Assolutamente Assolutamente Perché ci vogliono Mesi e mesi di tentativi Per creare una fragranza Che poi possa essere immessa sul mercato Perché noi non ci rendiamo conto Quanto anche solo una mezza goccia Possa cambiare moltissimo Il risultato finale Un po' più vicino a Raffaella Perché poi ci sono le note di testa Le note di coda Le note di cuore Quindi è veramente complicato Ma è un'esperienza magnifica Un'ora Una giornata No esatto Cioè per una cosa del genere Cioè forse una giornata Non basterebbe neanche Perché Studiano per una vita Ma non ti dobbiamo Ma perché è anche qualcosa Di estremamente personale Allora Dipende dal tuo olfatto Perché Dipende dai tentativi che fai Infatti nel primo C'è Agatha Che fa 42 tentativi E al 43esimo Le papille olfattive Rabbrividirono Perché non ne potevano più Ci vuole anche una pausa Poi ti insegnano proprio Come fare Ha detto la parolina magica Agatha Vabbè Qualcuno di voi Tutti Avrete visto la puntata Dell'anno scorso Nella quale Aiutami Nick Erano Venuti Loro Oggi Presentiamo Lui L'ultimo nato L'ultimo nato Per quei due Che non sapessero Chi è Agatha Chi è Agatha Agatha Cristiani È una delle protagoniste Proprietaria Di un bed and breakfast Che ha deciso Di mettere a disposizione La casa ereditata Dalla nonna Una villa liberty Molto bella E per mantenersi Perché all'epoca Non aveva ancora aperto La sua maison Ha deciso di fare Un bed and breakfast Dove sono andati Ad abitare Un commissario Un pubblico ministero Un architetto E uno psichiatra Non è una barzelletta No Anche se fanno molto ridere Questi qua Sì Insieme Hanno formato Una squadra Decisamente Simpatica E Agatha È un Maître parfumer Ha studiato All'ISIPCA Di Parigi Che è l'università Del profumo E ha lavorato Per sei anni Da Dior 3 da Hermès Quella che ha Anichi tra le mani La migliore fragranza Cioè tra l'altro Un titolo Abbastanza accattivante La migliore fragranza Si parla di un contest Si parla di un premio Quindi c'è un vincitore C'è uno che perde Più o meno Accettando la cosa Ci spostiamo Quindi andiamo via Da Varese Sì Perché Sono i cinque Dell'essenza Si accompagnano Agatha Che viene candidata A questo premio Il TFF Awards Che esiste veramente Tra parentesi Perché è la fondazione Più influente Nel mondo dei profumi Io mi sono presa La libertà Di consegnare Questo premio Non a New York Ma ad Antib Perché Antib È localizzata In Costa Azzurra Costa Azzurra Provenza Dove ci sono Le migliori Piantagioni Di profumo Dove tutte le grandi Maisons Vanno ad acquistare Le essenze I fiori Un po' più vicino Essenze Che mi sgridia La seconda volta Basta Giuro Adesso sto buona Ricevo purtroppo Comunicazioni Ok Dove le grandi Maisons Vanno ad acquistare I fiori Che poi diventeranno Le essenze Che saranno usate Nella creazione Dei profumi Cioè questo accade Sono lì le piantagioni Ci sono anche Da altre parti Però il clima Della Provenza Pare che sia Ottimo Perché queste piantagioni Diano il meglio Di loro Perché poi è una questione Chimica Quindi più sole Meno sole Un clima più secco Un clima più umido E c'è tutto un mondo Da scoprire Dietro questo Non è solo Il prodotto finale Ovviamente C'è tutto uno studio Preparatorio Quindi Non deve essere Affatto facile No Ma è molto affascinante Mentre il premio Realmente viene consegnato A New York Il premio viene Realmente consegnato A New York E tu segui Questa premiazione Eh certamente Sì sono iscritta Anche al sito Della fondazione Per cui rimango E si perché poi diventa Una droga Quindi tu inizi Per gioco E poi alla fine Vai a Chi l'ha vinto Quest'anno Si può dire Eh no Perché non l'hanno ancora fatta Quindi non te lo posso dire L'anno scorso L'anno scorso L'ha vinto J'adore Ma veramente Va bene Va veramente Boh Alla regia piace Poi ci sono diverse categorie Perché c'è il Donna Luxury Donna Nuove Maison Uomo Luxury Uomo Nuove Maison Ci sono diversi premi Ovviamente il più prestigioso È quello delle grandi Maison Agatha ha la sua Maison Che è appena nata È una Maisonnetta Però diventerà una grande Maison Perché i grandi nasi Con cui lei ha lavorato La stivano molto E la trovano assolutamente geniale E quindi sono tutti adattiva Per la premiazione Però Per la fiola Va lì Tutta carina Con i suoi amici dell'essenza In un posto magnifico oltretutto Perché la premiazione Si tiene all'hotel Ducap Ed è Rocco Uno degli alberghi più belli al mondo Credo Prestigiosissimo Chissà se mai qualcuno di voi C'è stato Chissà se noi mai ci andremo Ma Chi lo sa Io non lo conoscevo questo hotel Non lo conoscevi? No Perché mancaria Ma infatti Credo che è uno stipendio dei nostri Dopo credo che lo guarderò E realizzerò Che non posso permettermi Di andare Esattamente Ma sai Ma prima lo devo conoscere Mai dire mai Non sai Nella vita Ci ho detto Che cosa accade Niente di meno Che la sera della premiazione C'è la premiazione Non vi dico se Agatha ha vinto O non ha vinto Perché è abbastanza Anzi è molto importante Quindi non spoiler Agatha si trova Nel posto sbagliato Nel momento sbagliato Ed è accusata Di omicidio Quindi c'è proprio Un circolo perfetto Lei poi Essendo estremamente Sbadata Prende in mano L'arma del delitto E quindi Il commissario francese Ovviamente La mette In gattabuia Non proprio in gattabuia Ma la ferma Perché dice Signora Sul luogo del crimine Quindi dobbiamo fermarla Ovviamente Commissario Pubblico Ministero Cercano immediatamente Di scagionarla E parte Tutta questa serie Di indagini Diverse dalle altre Perché Essendo I due tutori Della legge Non in Italia E quindi fuori giurisdizione Devono Gioco forza Allearsi Con gli altri due Quindi l'architetto E lo psichiatra E fanno parte Dei segugi Quindi le loro indagini Questa volta Sono un po' più Sottotono Diciamo così Perché non si possono avalere Fanno quello che fanno gli altri Esattamente E lo fanno anche bene Si divertono Mi sembra anche Si divertono Moltissimo Chi li legge Prima di lasciare La parola A Nicolò E alle sue Curiosità legittime Per esempio Su Antibio Sulla tua scelta Il perché Il per come Io faccio Una piccola digressione Sui personaggi Tu sai che io Ho avuto il piacere Di leggere Anche le avventure Precedenti E devo dire Che in questa Hai Acuito Determinate caratteristiche Dei tuoi Le hai proprio Enfatizzate Per esempio Quella che tu prima Hai definito La sbadattaggine Che però è proprio La testa tra le nuvole De Agatha Che è sempre svaporata Te la vedi Sembra Te lo ricordi La puzzola Di Bambi Fiorellino Che era sempre quella lì Col fiorellino E' sempre lì E' un po' la caratteristica Del genio E' uno che è focalizzato Su qualche cosa E poi Vive con la testa E' molto carina Poi c'è il commissario Che è particolarmente geloso La PM Che è particolarmente concreta Gli altri due Che sono i soliti Cacciaroni Ma chi ha La caratterizzazione Più Evidente E' il nostro fracca Che qui diventa Un personaggio Un personaggio Si chiama Fratac Fracca No fracca No no Non fratac Fracca Non solo un profumo Ma è addirittura Il profumo che Raffaella indossa oggi Per la grande occasione Ho detto Mi porterà fortuna Infatti fracca Si chiama così Perché è un profumo Che io amo Veramente tanto Mi mette allegria Il profumo Dalla primavera Secondo me E ho pensato Che fosse Fracasso E' un nome adeguato A un boxer Lui è molto fracassone E qui lui Ci dissemina Le pagine Di piccole gag Che lo rendono Veramente Un Un grandissimo personaggio In tutto questo Ti devo dire Che la L'impronta francese C'è C'è anche Nella presa in giro Dei Dei Gendarmi Mangiarane Come li chiama Il coppola Guardate Veramente Se qualcuno Di voi Ha mai visto Film francesi Di quelli Un po' A commedia Non parliamo Non parliamo Ovviamente Dei Dei Grandi Leiluche Godard No parliamo Di quelli Un po' Di più basso profilo Avete presente Che L'investigatore francese È sempre un po' Idiota Basta che Prendi Magari Un Louis De Funet È un Idiota E lei ha reso Il suo Non proprio Idiota Via E lo fai fare Però la parte Del credito È inesperto Diciamo così Povero Caratterizzazione Così tipica Di Oltre Ventimiglia Nasce Dal fatto Che tu ti sia andata A vedere Un po' Di film O che comunque Conosci Quel genere Di cinematografia Ho frequentato I luoghi Quindi Sono Mi sono impregnata Diciamo Della Quindi sono Proprio così Sono proprio così Oddio Monsieur le commissaire È un cretino Come questo qua Va bene Povero Monsieur le fevra No Sai che cosa Che Secondo me In ogni paese Del mondo Ci sono Delle Particolari Abitudini Dei modi Di dire Dei modi Di essere Il milanese Per esempio È sempre Caratterizzato Come quello Andiamo Andiamo Bisogna fare Bisogna lavorare Fretta 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 Effettivamente Fa tui scoss Bravo E l'architetto È un tipo Così I romani Sono un po' Più pacciosi Rispetto ai milanesi Ma questo Non è che vuole Stereotipare i personaggi È per dare Una caratteristica In cui Anche lo scrittore È agevolato Senza dover Mettere Costantemente Chi sta parlando E il lettore Anche perché Poi alla fine Ci si affeziona Ai loro modi Di essere Poi È ovvio Che nella Totalità delle persone Non è che tutti i milanesi Sono così Tutti i romani Sono così E nemmeno tutti i francesi Sono così Però in una commedia Io credo Che ci stia Assolutamente Abbiamo parlato Abbiamo parlato Fino adesso Di profumi Quanto profumo C'è Nella miglior fragranza Una domanda Che c'è Già Già La miglior fragranza La regia ha detto Che sei un poeta L'hai sentito No Non l'ho sentito Non è solito Farmi complimenti Magari non era Un complimento Beh Tanto Tantissimo Direi Perché comunque È il filo conduttore Del romanzo Agatha Come ho detto Prima è un naso Un metroparfumer Quindi lei vive Costantemente Alla ricerca Del nuovo profumo Coinvolgendo gli altri Perché poi lei Casca dalle nuvole Chiede Ma secondo te Col sandalo Ci va il vetiveo E meglio la fresia Gli altri che abitano Con lei ormai Da cinque anni Però tu capisci Che sono domande Molto tecniche Quindi lei È lì Ad Antib E va a grassa A comprare L'essenza Che le serviranno Per creare i profumi Quindi andiamo A vedere Anche delle piantagioni Spero di aver condotto Il lettore A vedere queste Estensioni Chilometriche Di fiori Dove il profumo È assolutamente Della Provence Della Provence Inebriante Visite che tu hai fatto Quindi Sì E devo dire Che è un'esperienza Che consiglio a tutti Ma le hai fatte Perché stavi scrivendo il libro No C'ero già stata Poi ovviamente Quando ho cominciato A scrivere la serie E ho approfondito E devo dire Che comunque Non se ne ha mai abbastanza Al di là del fatto Che dei profumi Secondo me Mi ricordo Accidenti Che mondo Che mondo Che secondo me È così E io credo Come quello della moda Come quello di E i mondi patinati Poi alla fine Nascondono un'anima nera Io credo Quando si arriva Quando si arriva lì Poi la competizione È così Estrema Così dura Che probabilmente Le persone Si devono Devono sgomitare Devono Poi forse Chi caratterialmente È più portato Ha un certo tipo Di comportamenti Chi meno Però credo Che la competizione Porti a modificare Un po' i rapporti sociali A renderli Pericolosi E adesso Raffaella Tu cosa Cosa stai facendo Stai scrivendo Un nuovo romanzo Sì Il quarto È già pronto Oh mamma mia E anche E anche qua Il profumo Sarà Sempre sì Perché comunque Continueranno a vivere Sotto lo stesso Tetto Con un naso E quindi Quando vivi con un naso Non si può essere senti Quindi torniamo a Varese Torniamo a Varese Perché non possono vivere In vacanza Sempre Anche se devo dire Quando è uscito Io ero un po' Tidubante Perché ho detto Chissà come la prenderanno Il fatto che non è Un giallo classico Ambientato nella città Dove lavorano Il commissario E il pubblico Come ministero Invece devo dire Che sta andando Molto bene Le persone Ci sono divertite Un mondo E del resto Tutti abbiamo bisogno Di andare in vacanza No? Anche i lettori Ecco Ma anche perché Appunto Parlando di profumi Credo Che Non si possa Non parlare Della Francia No Quindi Cioè Forse A lungo andare Prima o poi Doveva arrivare Questo Questo momento È la patria del profumo La Francia Anche se in Italia Abbiamo dei nasi Molto bravi Certo Però Quelli più famosi Quelli che hanno fatto Un po' la storia Della profumeria Nonché Le prime Maisons Del profumo Sono nate Proprio in Francia Certo E quindi Mi sembrava anche Doveroso Tant'è che nel libro Ho messo i nomi Reali Dei nasi Di Dior E di Hermès Perché mi sembrava Giusto Un tributo Un tributo Perché sia io Che Agatha Siamo pazzi Di queste persone Che hanno creato Dei profumi Assolutamente Indimenticabili Non J'adore però No Non J'adore Vabbè Al di là Della regia Che ama A ma J'adore No io Adesso Digressione Dall'altra volta Che abbiamo incontrato La Bossi Io sono Una persona diversa Perché Se prima Utilizzavo Dalla bellezza Di 37 anni Lo stesso profumo E nessuno Si era mai lamentato Anzi Mi caratterizzava molto Perché c'erano Dei colleghi Che dicevano Sono andato In un ascensore E ho capito Che ne eri appena scesa Perché ho sentito Angel Da quando Ho conosciuto Questa Io a volte Le mando le foto Dei profumi Che mi compro E le scrivo Mi hai rovinato Tu mi hai rovinato Ma sono sponsorizzata Dalle Maisons del Profumo Quindi è il mio Secondo lavoro Ecco Quella più contenta È mia sorella Che invece Addicted Lo è sempre stata E ama molti profumi Di nicchia Quindi le chiedi un Dior Le chiedi un Hermès Non sa neanche cosa siano Ma in compenso Tutte quelle case Un po' Particolari Ce n'è uno Me ne ha fatto provare Uno che sa di whisky Ce n'è un'infinità Però sembri Una vinazzata Quando vai in giro E ti sei appena Sprezzata Il Jack Daniels Guarda Mi hai Servito Una domanda Mi hai servito Un assist Sì esatto Non so più parlare Mi hai servito Un assist Importante Perché io Non ho letto I tre romanzi Ma si parla Mai di Profumo Legato all'uomo O È un Nel senso C'è un profumo Da uomo Un profumo da uomo Assolutamente Sì Ah ok Sta chiedendo per se stesso No esatto Ti porterò il commissaire Che è stato Il primo profumo Da uomo Di Agatha Che ha creato Appositamente Per il commissario Nicola Di Stefano Che lei produce Profumi da uomo Cioè l'hai fatto produrre Gli porti il profumo Certamente Ti porto il profumo Non il libro Ti porto anche il commissario Che viene Ragazzi È stato un piacere Noi rincontreremo La Bossi Io sarò A meno Mille mila Miliardi Di soldi Spesi in profumi Nicola Sarà rovinata Rovinato Perché anche lui Dopo la prova profumo Ne vorrà creare uno Sì C'ha abbastanza rovinato La Bossi Grazie Un piacere Bossi Un piacere immenso Alla prossima Alla prossima Buone annusate Grazie C'è che augurio E buona vita a tutti Quanto c'è di giallo Nella vostra vita E quanto c'è di noir Nella vostra vita milanese Scopritelo con noi A risolto giallo A risolto giallo Grazie a tutti